Nei video giornali parliamo spesso del gaslighting, questa cosa malefica che è il gaslighting E secondo me ragazzi vi piacerà molto scoprire la storia di questa parola Da dove deriva la parola gaslighting? Allora intanto facciamo un attimo di definizione Quando è che si dice che una persona ti fa gaslighting? Quando ti fa dubitare delle tue sensazioni Per esempio, un attimo prima il tuo interlocutore ti dice che sei la peggiore zocca che la storia delle zocca che abbia mai conosciuto Una completa palla di merda russolente priva di qualsivoglia senso e dignità E pochi minuti dopo quando gli rinfacci di averti insultato ti risponde Io Ma non è vero, io non ho mai detto niente del genere Ma poi io non direi mai una cosa simile Ma per chi mi prende? Questo ragazzi è gaslighting Ora ragazzi il termine gaslighting ha una storia veramente interessante Infatti deriva da un film molto vecchio, un film degli anni 40 in bianco e nero addirittura Intitolato appunto Gaslight In questo film la protagonista si chiama Paula E' quello che subisce veramente aberrante E ve lo racconto nella parte 2 E' quello che si chiama la storia di un film 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 di film di un 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 film di film di un film Grazie.